Oggi andiamo a vedere come, dove, perché ho chiuso il mio trade sul petrolio e quali eventualmente potranno essere le mie future azioni su questo strumento. Benvenuti in questo nuovo video, sono sempre Damiano Zito, Price Action Trader indipendente, membro e collaboratore di Artforex e questa è Professione Trader, la rubrica dove settimanalmente, ogni giovedì, andiamo a vedere quella che è l'avanzamento, andiamo a vedere l'avanzamento del mio diario di trading, del conto reale che ho aperto dopo la fase teorica e quindi come fase esperienziale dell'accademia che ho intrapreso, il percorso di accademia che ho intrapreso con Artforex. In questo momento ho il diario di trading aperto dove ho aggiornato la mia posizione che ho chiuso lo scorso venerdì incassando a fronte dei 65 euro investiti, di 33,80 euro. L'operazione la possiamo vedere anche qui sulla MetaTrader, l'ho chiusa appunto alle 18.45 di venerdì, adesso andiamo a vedere i motivi anche sul grafico, al prezzo di 71, 71,34 circa. Non ho posizione aperta in questo momento, quindi il conto in questo momento vale a un saldo di 10.016 euro, e quindi insomma andiamolo appunto a rivedere sul diario. Lo andiamo a vedere sul diario perché effettivamente diciamo ho delle note, e questa volta ho scritto anche l'orario di chiusura e vado appunto ad inserire questa informazione. L'informazione è che il ragionamento che ho fatto è che la candela di mercoledì, sono andato a scrivere, una volta arrivati sul T4, che era il livello di 70 dollari al barile, sembra stia per diventare la candela di fine movimento. Quindi scrivo, è più probabile che venga sul prezzo con una costruzione anche lenta, e poi ricordo a me stesso che 70 dollari è il livello di prezzo con delle chiusure weekly più importante del target grafico. Ora andiamo a vedere sul grafico cosa effettivamente volevo dire, perché mi sono scritto queste cose. Un'ulteriore nota prima di andare sul grafico, gli interessi in questo caso sono di un centesimo, sul petrolio, almeno fino a venerdì, le avevo scritte sul grafico ma ho levato le note, c'era lo swap positivo sia giovedì, venerdì, c'era lo swap positivo per lo short, mentre era negativo per il long, probabilmente sarà così anche adesso. Quindi questo vuol dire che lo swap positivo è andato a compensare, in questo caso, a dare un centesimo sull'operazione in attivo, e quindi ha compensato praticamente le commissioni che si hanno per il mantenimento del CFD, in questo caso. Bene, quindi vado sul grafico, questa è appunto la MetaTrader, apro, eccola qui, la Pro Real Time. Allora, Pro Real Time, dove si vede in questo momento la mia posizione, qui ci sono delle note, va bene, posizione che aveva aperto appunto a 75 dollari, un sell stop su questo setup, su questo trigger che ho discusso nello scorso video, e avevo circa 65 euro di rischio impostati su questo livello, quindi 82,10, quindi il mio rischio era tutta quest'area. Quindi quest'area qui valeva i miei 65 euro. E fin qui ci siamo. Sono entrato con un sell stop, l'operazione è entrata il venerdì, il venerdì insomma in serata, in giornata, venerdì primo dicembre, quindi il primo giorno del mese. Sono rimasto dentro per sei giorni e sono uscito nuovamente il venerdì. Andiamo a vedere perché. Allora, importante allora il fatto che io avevo settato un target grafico a 67,80, che vado un attimo sul settimanale, era un livello che è più o meno questa zona, ecco, corrisponde anche con questi spike. Però, come dicevo anche nel video precedente, se tanto è un livello importante, che chiaramente può rompere, ma effettivamente se andiamo a vedere qui, il prezzo c'è rimasto per diverse settimane e poi ha riportato a rialzo il mercato. Tra l'altro qui, se non perdono male, c'è un outside bar, sì. Insomma, il mercato è rimasto, cioè veniva da un forte trend short, lo ha rotto, lo ha ripreso, lo ha rotto e poi ha fatto da tenuta e quindi nuova ripartenza a long. Però andiamo a vedere un po' il processo decisionale. Allora, cosa ho deciso di fare qui quando il mercato è arrivato a 70 dollari? Il fatto che lui sia arrivato a 70 dollari con questa volatilità, inizialmente, quindi il mercoledì sera, mi ha fatto pensare che potevo incassare. Però, sinceramente, questa volta non l'ho fatto perché eravamo sul petrolio, che è un mercato più volatile e avevo considerato quello che poteva essere diciamo un ulteriore spike, quindi un'ulteriore sporcatura quindi di questo minimo, nonostante la volatilità, che poteva andare un po' a colpire il mio target. Così non è stato. Quindi che succede? Io sono appunto entrato qui, lui ha fatto una giornata, due giornate, tre giornate, quarta giornata di volatilità e quindi qui si poteva sicuramente incassare. Però io ho deciso di fare, diciamo, una gestione attiva, almeno per il giorno dopo, che era quella di spostarmi sopra questo massimo, quindi sopra la candela, l'ultima candela di vola, e vedere se effettivamente il mercato poteva dare quello che in quel momento pensavo potesse dare, con un po' probabilmente di, come dire, di aspettative in più, in questo caso, no? Quindi che succede? Che lui effettivamente il giorno dopo, il 7 dicembre, rompe il minimo, però lo recupera e crea questa candela. Questa candela è un'informazione molto importante di prezzo, perché dopo un movimento short, che sembra potersi concludere qui, perché quello che ho scritto io, cioè la candela arrivata sul T4, cioè, facciamo così, lo spiego meglio, il T4 è fondamentalmente il 211,80 di questo mio setup. Bene. Il T4, quindi non ha sentito neanche il 161,8, arriva al T4, ci chiude sotto. Quindi che lui potesse fare questo è sicuramente plausibile, ma è anche plausibile che lui, dopo un movimento del genere, l'ho visto sia sul petrolio, ma è più frequente nel Forex, che dopo subito un T3, T4, lui possa anche fare un forte recupero, che non volevo vedere. Quindi diciamo che mi sono messo subito, almeno in protezione, non ricordo se l'ho fatto la sera del mercoledì o la mattina successiva, però diciamo ho protetto, quantomeno, la posizione sul massimo di mercoledì. e ok. Quindi a questo punto, il giorno successivo, nel momento in cui c'è stata l'indecision bar, qui onestamente volevo chiudere, non l'ho fatto perché era sera, ho detto aspetto domani mattina. La mattina successiva, sono rimasto ancora dentro, la mattina successiva però aveva già rotto questo massimo, il che insomma non era già bellissimo per me, perché insomma l'idea era che dopo, siccome questo era un indecision, non è che il mercato non rompesse questo massimo, perché dopo un indecision bar, il fatto che lui mi rompe il massimo, è più probabile che lui da qui effettivamente possa fare un allungo, cioè magari arriva anche verso queste zone. Ok, però sono rimasto a guardare, quindi questo è giovedì, siamo a venerdì mattina, 8 dicembre, quindi la prima cosa che ho detto, che ho pensato è che, bene, posso incassare adesso, quindi più o meno su, probabilmente sui 70, insomma una roba del genere, però ho preferito attendere. Ho voluto vedere un po' come la giornata, soprattutto con la sessione americana, poteva evolversi, e quindi vedere anche un po' quella che sarebbe stata la chiusura settimanale. Quindi mi aspettavo che, ok, va bene, ha rotto, però ogni tanto il mercato fa finta, cioè rompe, ma poi poteva tornare giù, perché c'era appunto pressione al ribasso. Cercavo una conferma di pressione al ribasso che non c'è stata, ed è stato poi il motivo finale della chiusura, che però spiego meglio fra un pochino. Se andiamo sul 6 ore, vediamo come effettivamente, qui siamo giovedì 7 dicembre, la mattina, ecco qui, già la notte, lui la mattina, cioè la notte, aveva rotto il massimo dell'indecision, e quindi io in mattinata, verso le 9 più o meno, probabilmente mi trovavo, mi trovavo su zona 71, 71 e 20. Che vuol dire? Sicuramente eravamo ancora in un trend short, in quel momento ho detto, va bene, rimaniamo a guardare almeno fino alle 13, vediamo come si evolve la situazione fino alle 13, e alle 13 ha chiuso in questo modo, cioè con questa candela ribassista, che però non mi dava ancora una conferma di uno short, potevo chiudere, ma ho voluto attendere ancora la sessione americana. Sessione americana che è inglobata in questa candela, quindi apertura alle 13, chiusura alle 19, la chiusura in questo caso, cioè la candela ha fatto ancora un ulteriore spike, però la chiusura bullish, sopra ancora questi massimi, e mi ha fatto pensare al fatto che probabilmente è ora di chiudere. Era venerdì, venerdì sera, non è stato proprio il massimo della qualità decisionale, dal punto di vista di lucidità mentale, però nel momento in cui, alle 19.45, era ancora inside di questa candela, ho deciso di portare a casa il movimento. E se andiamo a vedere, poi in realtà, diciamo, sono tre le variabili che mi hanno portato a questa decisione. E le scrivo qui. Allora, in realtà sono due che poi hanno portato alla terza. Allora, la prima è sicuramente l'obiettivo mensile, che è dell'1,5% circa, che, diciamo, in termini monetari, sono circa 150 euro. L'altro punto era la questione temporale, ok? Ci trovavamo, ci troviamo ancora nella prima metà di dicembre, poi dicembre è anche un mese particolare, e quindi siamo nei primi 15 giorni del mese, no? E ancora non avevo in qualche modo fatto cassa. Quindi, sono andato a vedere quella che è la volatilità, la velocità anche del movimento, che è, diciamo, un KPI, se vogliamo, un indicatore, no? Che possiamo un po' andare a tracciare. Quindi, se, l'idea è questa, se io ho un'indicazione monetaria, o comunque un obiettivo, in questo caso mensile, può essere poi anche trimestrale, chiaramente, cioè l'idea è che questi 150 euro, facciamo così, sul giornaliero, adesso ho cancellato, comunque 150, se è l'obiettivo mensile, sul giornaliero può diventare più o meno su 21 giorni di mese, media, sono, ok, questo è l'indicatore, circa 7 euro al giorno, cioè, se un mercato mi sta dando, ok, un movimento con questa velocità, facciamo attenzione, cioè, questa è l'idea, e, se andiamo, e quindi, questa è l'idea, quindi, fondamentalmente, la velocità è la volatilità del mercato, quindi, 7 euro al giorno è l'indicazione, cioè, se il mio mercato mi sta dando più di 7 euro al giorno, ok, in un tempo breve, sono nella prima metà del mese, non ho ancora incassato, sono sul livello importante, era sempre la solita storia, bisogna saper anche gestire o incassare, ok, nel mio caso ho preferito incassare, potevo incassare prima 70 dollari, sì, chiaro, però, insomma, ho fatto le mie valutazioni, che succede? Allora, vado un attimino sul giornaliero, ci sono due considerazioni, a prescindere dall'indicatore, no, di velocità giornaliera che uno può andare a fare, cioè, il discorso è capire anche la natura del mercato e quelli che sono i movimenti tipici, un trigger che va a muoversi in questo modo, cioè, arriva al T3 e poi spara al T4, è molto più probabile, lo fa sicuramente il Forex, ma anche il petrolio, che possa avere poi un recupero da questi livelli anche verso la mia zona di break even. Quindi, diciamo, questo, questo era da tenere in considerazione, a prescindere dall'indicatore matematico. L'altra cosa, è quella che poi ho scritto anche nel mio diario, è che dopo un movimento di vola, è una cosa che ho visto, diciamo, abbastanza ripetitiva nei mercati, i pattern di ripartenza sui livelli chiave sono spesso formati da, quindi, fine movimento in alta vola, candela di indecisione, ulteriore candela che va praticamente a rimangiare parte della volatilità ribassista, in questo caso ribassista, e quindi alla rottura di questo è molto probabile, è molto più probabile che ci sia che ci sia, diciamo, un ritorno long, ma già una chiusura, una chiusura alta su, sopra i 71 in questo caso, aumentava di molto la probabilità di andare verso il mio stop profit, quindi prendere ancora meno, diciamo così, e quindi allontanarmi dal mio target grafico in termini di probabilità nel breve tempo. Questo che vuol dire che dal punto di vista decisionale è vero che avevo uno stop profit qui, ok, quindi idealmente stavo guadagnando qualcosa, cioè, non idealmente, realmente stavo guadagnando qualcosa che sono, andiamo a vedere, in questo caso stavo guadagnando circa 210-220 punti, quindi a fronte di questo, è vero, cioè io non stavo più rischiando niente, stavo utilizzando i soldi del mercato per guadagnare qualcosa, però, dal punto di vista decisionale e amministrativo, quindi qui non c'avevi più un rischio e un rendimento, ma quello che stavi rischiando, anche se sembra che non stai rischiando niente, è che tu in realtà hai avuto un guadagno che il tuo cervello percepisce come una cosa che avevi e non hai più, va bene, e quindi, diciamo, il processo lo poi, diciamo, si va un po', si va a modificare. Se lo lasci, no, sulla questione rischio-rendimento in modalità un pochino più automatica, chiaramente la questione è completamente a favore del rimanere dentro al mercato, molto meglio a quel punto rimanere con un break-even e costi commissionali, anziché, diciamo, spostare uno stop troppo vicino perché a quel punto le probabilità di essere colpito sono più alte, soprattutto sul livello chiave che è stato un livello di ripartenza come i 70 dollari. E quindi, diciamo, questo è il processo decisionale. Chiaramente, no, quindi il concetto è che nel momento in cui io avevo, facciamo così, io potevo, quindi, o incassare qui, 72,81, mi sembra che ho spostato lo stop, l'ho incassato invece a 71,35, più o meno, ok, quindi diciamo che la probabilità che questi 140 punti in meno li andassi a fare era più alta, ancora non lo sappiamo se li fa, a fronte di invece magari andare verso ancora il 67,80. Però, quello che mi serviva a prescindere dal rischio rendimento era una conferma grafica dello short e non c'è stata, quindi, diciamo, la conferma di ulteriore debolezza. Tra le altre cose, quindi, sul daily, quindi, che cosa vediamo? Che qui, ora, andiamo a vedere il settimanale, che qui il mercato stava creando appunto quest'area di swing, cioè, ha creato uno swing, non un'area di swing, sull'area 70. Quindi, questo qui, che è il mio nuovo swing nel daily, ha poi delle confluenze e potrebbe arrivare anche verso area 73, ma, conoscendo il petrolio, magari fa anche una fiammata anche verso i 74 e mezzo, 74. E quindi, a quel punto, una situazione più confermativa, se lui dovesse fare questo, questo, magari di nuovo questo, allora, si può anche rivendere, anche qui, facendo attenzione un po', la volatilità, facendo sempre attenzione al livello 70, perché qui, poi, magari, lui può fare anche il doppio minimo tecnico e ripartire, però, insomma, andare a rivendere e andare verso 67, 80, ma poi, in base anche a, al trigger, vedere se ci sono ulteriori confluenze. una cosa che forse non ho detto e che effettivamente mi ha fatto comunque rimanere all'inizio nel trade era, insomma, la volatilità che si era espressa ancora fino a giovedì e quindi mercoledì, mercoledì, giovedì, era il fatto che potesse effettivamente arrivare ai 67, 80, quindi questa, ricordiamo questa zona qui, perché avevo, considerato quella che era la volatilità che si stava esprimendo nel settimanale. Quindi l'idea era che, se andiamo a vedere queste, queste due settimane, no? Quindi questa e questa più o meno hanno, in questo caso, 729, qui abbiamo 710 punti, cioè, l'idea che lui potesse fare 700 punti era abbastanza plausibile, e quindi era il motivo per cui sono rimasto ancora dentro. Lui aveva fatto un minimo massimo di 600 circa, 595, quindi l'idea di un ulteriore spike dal punto di vista di volatilità ci stava, però poi sul daily ha mostrato una price action che almeno nel breve, al momento, non conferma lo short. Poi, quello che può succedere è che lui adesso fa un, per esempio, qui un, come dire, un trigger short, però, mi sono anche chiesto, andresti a vendere uno short qui? No, a questo punto quello che vorrei andare a vedere, siccome uno short qui, c'è un trigger short con questo tipo di recupero, ha più probabilità di essere fallito, voglio proprio vedere un trigger su queste zone. Ed è qui che effettivamente dovesse verificarsi una nuova price action sul petrolio, è molto probabile che andrò a riposizionarmi short su questo mercato. Quindi, questo è tutto per, diciamo, questo trade incasso un, un po', 0,30, andiamolo a vedere, 0,30, 33,80, 0,34%, va benissimo, e poteva essere un pochino di più, sì, non fa niente, insomma, si prendono delle decisioni, questo è il trading, il trading comunque è ragionato, quindi in questo momento non ho altre posizioni, l'idea, almeno sul, sul petrolio, che se ci sono delle nuove price action short importanti, interessanti, potrei, potrei tornare ribassista appunto sul petrolio. Bene, io ti ringrazio per aver visto questo, questo video, ti ricordo di farci sapere, fammi sapere nei commenti se ti è piaciuto, se ti interessa vedere effettivamente il processo decisionale, se c'è qualche altro aspetto che magari vuoi che io approfondisca durante questi, durante questi video. Ti ricordo poi di lasciare un commento, condividere questo video con, con la tua, con il tuo pubblico, e iscriverti al canale per rimanere sempre aggiornato. ti ringrazio, ti saluto soprattutto, buon trading, alla prossima.